aiutare gli studenti ma anche i docenti e le famiglie a individuare il percorso di studi più adatto che sappia valorizzare le competenze personali dei ragazzi ma anche guardare alle opportunità offerte dal mondo del lavoro. A questo grande e ambizioso obiettivo tende il progetto Quadrante promosso dalla Fondazione CR Firenze insieme a Giunti Psychometrics con l'Ufficio Scolastico Regionale e il Comune di Firenze. Il progetto Quadrante è rivolto agli studenti delle elementari della scuola medio-superiore che concludono i rispettivi cicli di studio e devono scegliere come continuare o guardano all'università o ad altre opportunità di formazione. La Fondazione sinceramente ha capito che bisogna partire da un'educazione radicale dei ragazzi, bisogna avvicinarli al mondo dello studio affinché loro apprendano e possano fare un domani un lavoro prima di tutto per soddisfazione loro e soprattutto per una comunità, per una società migliore. Quadrante mette a disposizione strumenti e materiali di documentazione per indirizzare le scelte formative e in più strumenti come storie interattive multimediali e anche dei test, nello specifico i test Magellano che permettono ai ragazzi di mettere in luce le proprie potenzialità, aspirazioni e motivazioni. È un test che aiuta a comprendere quali, non solo quale, ma quali possono essere i percorsi migliori per i giovani, quindi da degli elementi concreti su cui ragionare.